ragazzi bentornati sul mio canale oggi vi voglio far vedere un gioco che si chiama wingspan questo titolo qua con il fagiano in copertina è in gara per il gioco dell'anno si tratta di un gioco da 1 a 5 giocatori della durata approssimativa di un'oretta vi farò un primo video con il tutorial con tutte quante le regole poi seguirò con invece un secondo video dove invece farò un gameplay a due giocatori eccoci qua io ho già fatto un pochino di setup ora vi spiegherò brevemente un po tutte le parti della nostra plancia di questo gioco questa qui che vedete al centro è la plancia del giocatore quindi ognuno ne ha una io adesso ne ho preso fuori una per farvi vedere abbiamo i cubetti azione del giocatore che sono questi qui sono 8 e il segnalino primo giocatore che dovete dare casualmente a uno giocatori a tavola poi abbiamo un mazzo di carte per cominciare nel livelliamo 3 li ho divisi in due perché sono tantissime carte quindi tutte in fila non ci stanno e poi dopo abbiamo queste carte qua che invece sono carte obiettivo abbiamo le risorse che sono 5 quindi abbiamo il grano i vermicelli i pesciolini le bacche e i topi e poi ci sono le uova che andranno a depositare i nostri uccelli vi dico subito che il colore delle uova non ha influenza sul gioco quindi è puramente estetico abbiamo una tabellina che ci indica i round abbiamo questi token se vogliamo giocare con questa versione del gioco che è quella verde se no abbiamo quella dietro che è blu quella verde un pochino più competitiva semplicemente andiamo a prendere questi token in modo casuale sono davanti e dietro li andiamo a sistemare qui in questi spazi e ci diranno in ogni round come si farà a fare punti nella versione verde il primo classificato a ottenere questo obiettivo prenderà questi punti qua che sono 4 il secondo 1 il terzo 0 non so se avete giocato a progetto gaia terramistica è simile la versione di dietro invece è blu è meno competitiva perché non si va in classifica ma semplicemente per per ogni volta che si verifica la condizione della tessera prenderete un punto comunque poi vi spiegherò meglio una volta che abbiamo visto il tutorial che cosa vogliono dire queste tessere all'inizio della partita ci vengono date due carte obiettivo ne dobbiamo scegliere una e scartare l'altra quindi supponiamo che io tenga questa e l'altra la metto via poi ci vengono date cinque carte e cinque segnalini uno per ogni risorsa nella nostra mano di partenza quando si comincia dovete semplicemente andare a scegliere un tot di carte uccello ad esempio se io ne tengo tre potrò tenere solo due segnalini cibo quindi io devo tenere cinque cose in tutto se tengo una sola carta uccello potrò tenere quattro segnalini cibo quindi fate la vostra scelta anche in base magari all'obiettivo che avete poi si va a cominciare io ho scelto tenuto una carta obiettivo tre carte e due risorse ora dobbiamo vedere che cosa si può fare durante il nostro turno abbiamo otto cubetti azione dobbiamo semplicemente prenderne uno e sistemarlo in uno di questi slot a seconda di quello che vogliamo fare i tipi di azione sono quattro prima azione che si può fare giocare un uccello voi andate a mettere il cubo nella colonna dove volete giocare l'uccello qua in alto andate a scegliere una delle carte che avete in mano e ora vi spiegherò un attimo l'anatomia della carta e andate a giocarlo nell'habitat corrispondente che cos'è l'habitat qui sopra le carte ci dicono dove possono vivere questi uccelli uno scelti due di foresta e uno di mare ma potrebbero esserci degli uccelli che vivono ad esempio in più habitat prendete ad esempio questo uccello qua può stare in qualunque dei tre habitat i tre habitat spazialmente sono le righe quindi vedete che qui c'è il simbolo della foresta qui c'è il simbolo della pianura e qui c'è simbolo del mare quindi se io vado a giocare questo fagiano qui con il simbolo della foresta so per certo che lui dovrà essere sistemato in una di queste righe ma io devo procedere gradualmente non posso lasciare un buco vuoto quando lo metto giù quindi se gioco questo fagiano lo andrò a sistemare qua che cos'altro ci dicono le carte il costo subito sotto l'habitat questo voltoio qua non costa nulla a giocare mentre invece giocare l'allocco barrato mi costerà un topolino quindi supponiamo che io voglia giocare l'allocco che vive nelle foreste dovrò sistemarlo qua e dovrò scartare un topolino nei turni successivi se io volessi giocare l'avvoltoio che va sempre nelle foreste quindi io dovrò sistemare il cubetto qui sistemarlo nello slot subito a destra dell'allocco però vedete che dovrò pagare anche un uovo quindi man mano che giochiamo uccelli più andiamo verso destra più ci saranno più il costo sarà alto quindi vedete che aumenta come ottenere le uova ci arriviamo dopo questa qui è la prima azione che si può fare ed è abbastanza semplice un'altra azione che si può fare della seconda è ottenere del cibo dalla mangiatoia quindi quando noi facciamo un'azione andiamo a mettere il nostro cubetto azione nel riquadro libero più a sinistra come si ottiene cibo dalla mangiatoia come parte del setup io ho praticamente lanciato questi dadi qui dentro questa torre è molto bella e da comporre dentro il gioco i dadi vanno infilati dietro vedete che cadono giù li tirate all'inizio e queste qui sono le risorse disponibili ci sono due pesci un vermino e due dadi che possono fungere da vermino oppure da grano quindi se vedete qui qui c'è scritto un dado quindi io vado a prendere una risorsa di queste per farlo semplicemente tiro fuori dalla mangiatoia la risorsa che mi serve ho scelto il pesce quindi prendo quella corrispondente che è il pesciolino e me lo aggiungo di fronte a me che succede se io avessi avuto due uccelli qua prima di giocare l'azione ottenere cibo che avrei dovuto piazzare il mio cubetto azione nello spazio libero più a sinistra quindi questo non è libero perché c'è una carta e avrei preso due dadi dalla riserva invece oppure se fossi stato qui potevo prendere un dado dalla riserva e come azione opzionale potevo scegliere di scartare una carta di quelle dalla mia mano per ottenere un dado in più questo si può fare solo una volta se per caso nella mangiatoia tutti i simboli dentro sono uguali voi potete scegliere di rilanciare tutti i dadi anche se ad esempio ne rimane uno solo doppio oppure anche uno singolo di un altro tipo li potete riprendere tutti e li rilanciate oppure se il giocatore prima di voi ha mangiato l'ultimo immediatamente voi andate dietro a rilanciare i dadi e questo è grosso modo come ottenere cibo dalla mangiatoia ogni volta che fate un'azione se questa azione non è nel primo slot voi dovete andare a scorrere questo cubettino sopra le varie carte e se la carta dice quando attivata succede questa cosa fare questa azione prendiamo ad esempio l'allocco barrato dice guarda la prima carta del mazzo se l'apertura l'area minore di 75 centimetri mettila sotto questa carta allora io pesco una carta dal mazzo vado a vedere l'apertura l'ale che è 30 centimetri è minore di 75 quindi la giro e la metto sotto questo si fa perché alla fine della partita le carte sotto altre carte valgono un punto l'una dopodiché dopo che ho risolto l'azione di questo mi sposto ancora a sinistra col dadino questa carta non ha un'azione quando attivata ma un'azione rosa che sono diciamo le azioni che si possono innescare nel turno degli altri infatti dice quando un rapace di un altro giocatore ha successo ottenete un cibo dalla mangiatoia ma questo in questo momento non è successo quindi scorriamo ancora il nostro cubetto a sinistra e lo lasciamo qua mi ricordo che dopo che avete fatto un'azione dovete passare al giocatore alla vostra sinistra poi si rigira avrete un altro cubo a disposizione durante il vostro turno andiamo a vedere deporre uova deporre uova è molto semplice semplicemente guardiamo il numero di uova dello slot corrispondente le prendiamo dalla riserva e le andiamo ad aggiungere in qualunque uccello della nostra plancia quindi io potrei fare due di qua oppure anche una e una fermo restando che voi dovete stare dentro al limite di uova che gli uccelli possiedono il limite di uova è scritto qui questo ne può avere al massimo uno questo ne può avere al massimo due quindi io non potrei fare così ma posso fare così oppure così se pescate uova in eccesso chiaramente non le potete mettere giù i punti che ci sono negli uccelli di fianco alla piuma sono i punti vittoria a fine partita mentre il simbolo tra le uova e le piume che è questo cerchiettino qua è il tipo di nido che questo uccello fa quindi vedete ad esempio questo qui ne fa uno diverso da questo il tipo di nido conta per gli obiettivi di fine round oppure per le abilità di alcune carte comunque ve lo richiedono specificatamente quindi abbiamo visto deporre uova è molto semplice ma se noi avessimo avuto un uccello adesso questo è di acqua non ci potrebbe stare ma se noi avessimo avuto un uccello mettevamo mettevamo il cubetto qui e poi dopo scorrevamo a sinistra attivando tutte le abilità prima qui ci dice che deponiamo sicuramente due uova più se vogliamo scartando una risorsa di qualunque tipo un uovo aggiuntivo solo una volta vediamo l'ultima azione che si può fare pescare carte uccello noi mettiamo il nostro cubetto qui peschiamo una carta vedete che c'è una una con l'opzione due due con l'opzione tre se scartiamo se siamo qui e scartiamo un uovo ne possiamo prendere un'aggiuntiva possiamo farlo una sola volta come si fa a pescare le carte possiamo prendere una delle tre carte nel display oppure pescarne una faccia in giù quando prendiamo una carta dal display non la sostituiamo immediatamente ma se ad esempio noi ne pescassimo due peschiamo questa questo buco rimane vuoto quindi di qui non possiamo più pescare scegliamo una di queste due o un'altra dal mazzo ad esempio poi finiamo tutte le abilità quando è finito il nostro turno allora si rimpiazza per il giocatore successivo ma solo dopo come ci ricorda poi sotto tutte le azioni pescare carta uccello puoi attivare le abilità marroni in questa riga quindi andiamo a scorrere come al solito il nostro cubetto e attiviamo tutte le carte quando i giocatori hanno piazzato nelle varie azioni tutti i loro cubi allora possiamo andare a vedere il round qui siamo nel round 1 nel round 1 facciamo punti cioè finiamo in classifica in base a quante uova abbiamo nei nidi di questo tipo quindi il nido fatto così sulle carte è sostanzialmente questo qui facciamo un esempio pratico questi due uccelli hanno un nido diverso esistono degli uccelli che fanno un nido a stella stella vuol dire qualunque tipo di nido quindi varrebbe per questo obiettivo è praticamente il jolly supponiamo che la situazione della nostra plancia sia questa quindi queste due uova non contano perché il nido è diverso questa conta e questa conta perché al nido a stella allora noi abbiamo due uova nei nidi di quel tipo si guardano anche quelli degli altri giocatori e chi ne ha di più va a piazzare uno dei suoi cubetti azione al primo posto quindi mettiamo che il rosso ne ha due e il blu ne ha solo uno il blu finisce qui però per poter arrivare in classifica dovete averne almeno uno non potete non avere nulla e dire mi prendo l'ultimo posto libero quindi dovete aver messo almeno un uovo in un nido di questo tipo queste altre carte qui per esempio carte uccello nella sezione d'acqua oppure carte uccello con questo tipo di nido con l'uovo sopra quindi qui potete avere anche 30 uova sulla stessa carta che conta sempre uno invece qui sopra nel primo conta il numero di uova in questo tipo di nido se fate un pareggio voi semplicemente mettete tutti e due i cubetti al primo posto sommate la prima e la seconda posizione e ogni giocatore prende la metà per difetto quindi 4 più 1 5 fa due e mezzo ogni giocatore prende due punti e chiaramente come in tantissimi altri giochi dopo la seconda posizione non si assegna ma se ci fosse un terzo giocatore andrebbe direttamente qua quindi questo è quello che succede alla fine del turno ecco avete visto che voi avete preso uno dei cubetti azione e dovete lasciarlo qui questo significa che il turno dopo verrà giocato con soli 7 cubetti azione quindi il corrispondente della seconda fila poi dopo qui ne avrete 6 e qui ne avrete 5 ne avete sempre di meno ma è anche vero che voi costruiete degli uccelli quindi tutte le volte che fate un'azione diventa sempre più potente l'effetto cascata dell'azione quindi avete meno azioni disponibili ma farete comunque più cose esistono queste carte rosa qua che hanno un effetto una volta tra un turno e l'altro quando un uccello rapace di un altro giocatore ha successo otterrete un cibo da una mangiatoia questo qui è un effetto passivo che si innesca quando lo fa un altro giocatore ora io ho guardato su board game geek l'autore spiega che se avete queste carte un altro giocatore fa la sua azione questa non scatta subito ma dovete aspettare che lui la finisca dopodiché lui prende quello che gli spetta ma solo una volta che l'azione dell'altro giocatore è completata sembra inoltre nel manuale in italiano non è tradotto benissimo che questo tipo di azione in un altro turno voi possiate farlo una volta sola quindi potreste metterci un segnalino sopra per ricordarvelo oppure potreste tappare la carta nel senso che voi giocate un altro giocatore fa l'azione con rapace voi usate la sua abilità e ottenete il cibo dopodiché la tenete tappata giocano tutti i giocatori quando tocca di nuovo a voi stappate le carte rosa ci potrebbero essere degli uccelli che ci chiedono di pescare ulteriori carte obiettivo di sceglierne una di tenerla e questa qui si va a sommare a quelle che avete già vediamo ad esempio questa carta obiettivo qui uccelli che mangiano questo si riferisce al costo e a fine partita ci dà due punti vittoria per uccello quindi ci dice lo spiega qui sotto qualunque uccello che abbia specificatamente un simbolo qualunque come parte del proprio costo in cibo vediamo se ne ho qualcuno se ne ho uno qua vedete lui mangia questi due tipi di cose qua oppure anatomista leggiamo queste qua uccelli con parti del corpo nel proprio nome parti del corpo c'è questo simbolino qui vedete in piccolino pc larus de laurensis pc parti del corpo comunque sono segnalate vi faccio vedere altre due tipologie di uccello vediamo questa qui c'è scritto quando giocata non c'è la fascia marrone quindi fa un effetto nel momento in cui la mettete giù gioca una seconda carta uccello nel tuo habitat foresta pagano i normali costo normalissimo questo uccello non fa nulla dopo che lo avete giocato vale tre punti a fine partita vediamo quest'altra carta qui invece quando l'attivate questa è un rapace vedete tira tutti i dadi che non si trovano nella mangiatoia se su uno compare il topo tiene un topo e depositalo su questa carta supponiamo che questa carta sia qui quindi noi quando attiviamo quest'area qui dopo balziamo su di lei dovete fare questa azione prendete i dadi fuori dalla mangiatoia li tirate supponiamo che venga un topo voi prendete un topolino e glielo mettete sopra non potete usare le risorse sopra alle carte degli uccelli per pagare altri uccelli ma dovete lasciarle lì semplicemente come le carte sotto altre carte anche i token sopra altre carte varranno un punto a fine partita quindi veniamo all'end game scoring ve lo sintetizzo a fine partita voi prendete punti per le seguenti cose i punti indicati su ogni carta uccello quindi vedete ad esempio questo uccello vale due punti a fine partita quindi lì sommate tutti i punti per ciascuna carta bonus che avete quindi sulle carte corretto verde che vi fanno fare punti a seconda di certe condizioni i punti per ciascun obiettivo di fine round sono questa tabella qua che vi ho fatto vedere più prendete un punto per ogni uovo sui vostri uccelli un punto per ogni segnalino cibo sulle vostre carte un punto per ogni carta sotto un'altra carta vi do un'ultima notizia wingspan in inglese significa apertura alare sì lo so che è una curiosità non c'entra niente ma comunque è bello da sapere io vi ringrazio per aver visto il mio video se non l'avete già fatto vi ricordo di iscrivervi al mio canale di mettere un like che mi sarebbe davvero di supporto e noi ci vediamo alla prossima puntata